quello complessivo sugli sbarchi che è meno 90% in un anno, quindi evidentemente le politiche del governo hanno funzionato per disincentivare gli arrivi e quando si parla di politica dei porti chiusi ci si riferisce porti chiusi alle navi ONG e questo è innegabile che abbia comunque ridotto gli arrivi perché dal nostro punto di vista quelle navi erano un incentivo alle partenze e agli scafisti. Il decreto sicurezza funziona perché voi lo dicevate adesso, quelli che sono arrivati sono nell'hotspot e andranno poi nella rete degli Sprar, i minori non accompagnati, questo sì, e andranno anche quelli che ottengono l'asilo come rifugiati politici, mentre con la legge che c'era prima tutti quelli arrivati sarebbero andati nei centri gestiti dai comuni, quindi nella rete Sprar oppure nei CAS che erano quelli gestiti dalle cooperative che nascevano come funghi dappertutto. Quindi la nuova normativa funziona, ha regolamentato la materia, le istanze pendenti così ridotte significa che anche i nuovi criteri sulla protezione umanitaria disincentivano diciamo delle richieste prive di fondamento. E' chiaro che il fenomeno poi non si può debellare del tutto ma sono numeri estremamente ridotti questi. Resta una questione di fondo Molinari che ha sollevato quel sindaco ma che hanno sollevato anche numerosi osservatori e vostri avversari politici in questi giorni. Bisogna anche saper trattare con l'Europa e con i propri omologhi e negli ultimi consigli europei dei ministeri degli interni Matteo Salvini non si è mai presentato. Guardi bisogna saper trattare ma l'Italia ha dimostrato che ha fatto da sé nel senso che con queste politiche, con l'aggetto sicurezza e i porti chiusi visto e considerato che i partner europei, in particolare quelli più europeisti e penso in particolare a Macron, non sono mai stati così disponibili diciamo a collaborare con noi, anzi ci rimandavano gli immigrati al di qua della frontiera di Ventimiglia, al di qua della frontiera montana del Piemonte, l'Italia ha fatto da sé. Detto ciò Dublino andrebbe rivisto anche se è innegabile che l'Italia essendo una piattaforma in mezzo al Mediterraneo è un paese dove arriveranno tendenzialmente sempre più persone, i paesi del sud dell'Europa, quindi quelli costieri hanno un problema maggiore. È chiaro che i paesi del nord Europa a questo tratto non vogliono cambiarlo quindi è un tema complesso ma l'Italia ha dimostrato che anche da soli il fenomeno si può regolamentare. Dublino andrebbe cambiata ma i deputati europei della Lega quando si è trattato di votare una mozione in Europa non hanno votato con noi per spingere l'Europa cambiare Dublino.